A Cosenza c'erano due caduzioni, quindi buon lavoro a caduzioni a crescita. Però se uno viene eletto sindaco da una minoranza della minoranza, evidentemente è un problema non per un partito, ma per la democrazia. E quindi io penso al ruolo dei politici, ma penso anche al ruolo dei giornalisti, esclusi i più presenti, perché si fa gli ultimi... Penso all'ultimo mese di campagna elettorale tra primo e secondo punto. Quando parli di vicende private di qualcuno, di abitudini sessuali, di assalti fascistiche, fatemi dire che ho fatto un ministro dell'interno, che la gestione dell'ordine pubblico in questo paese abbia permesso settimana scorsa a Roma cose indegne a delinquenti che non potevano essere in piazza perché per legge non potevano essere in piazza. E stamattina ci siamo svegliati, un lunedì mattina, di lavoro per tanti, con gli idranti e i lacrimogeni, usati a piene mani a Trieste, contro persone sedute per terra. Trieste che peraltro votava oggi.